Il numero 32745 dei deputati Businarolo ed altri concernenti iniziative di competenze in ordine alla riforma organica della prescrizione e alle carenze di personale presso gli uffici giudiziari, anche alla luce dei dati evidenziati nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia. Il deputato Cozzolino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di quel confirmatario a un minuto. Grazie. 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 Grazie Presidente. Grazie. 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 Grazie a tutti. priorità al processo MOSE. Come noto, infatti, spetta all'autorità giudiziaria ogni valutazione sull'ordine e sui tempi di trattazione dei procedimenti, nei rispetti dei canoni di priorità fissati dal legislatore, articolo 132 bis delle disposizioni attuativi del codice di procedura penale. Quanto alle specifiche competenze del Ministero, abbiamo avviato un deciso potenzialmente dei servizi amministrativi degli uffici Veneti, mediante l'assegnazione di 37 nuove unità, delle quali 10 destinate a Venezia. Ulteriori 10 unità giungeranno nelle prossime settimane attraverso alte procedure, in particolare lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo stipulato uno speciale protocollo con la Regione Veneto per l'impiego temporaneo di personale regionale nei tribunali. Grande attenzione, inoltre, sarà riservata alla giustizia in Veneto nell'assegnazione del personale reclutato con il concorso per 800 posti appena banditi. Sono stati anche rafforzati gli organici di magistratura negli uffici di primo grado, prevedendo 29 giudici in più e 11 PM in più rispetto a quelli attuali. Analoga iniziativa in corso per gli organici della Corte d'Appello Veneto. Vorrei aggiungere soltanto una semplice questione che io ritengo, come ho detto, assolutamente concludo, Presidente, prioritaria alla approvazione del disegno di legge. Ho avuto anche ragioni di discussione nel governo del quale facevo parte nel governo precedente sulla priorità da assegnare a questo provvedimento, ma c'è una questione che dobbiamo dire per onestà intellettuale. Qualunque intervento noi realizzeremo non avrà alcun valore sui processi in corso, perché sulla base del criterio della non retratività degli interventi penali questo tipo di modifica potrà valere soltanto per evitare che in futuro vicende come queste si possano produrre. Peraltro l'aumento dei massimi edittali già introdotto con la legge anticorruzione ha ridotto sensibilmente le prescrizioni nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. E questo è un fenomeno che diventerà ancora più forte nel corso dei prossimi anni. Per la credenza di organico negli uffici giudiziari Veneti è stato avviato un potenziamento con lo scorrimento delle graduatorie. Presidente, Ministro, non sono soddisfatta della sua risposta. Un processo su due si prescrive e sono due anni e mezzo che aspettiamo di fare la riforma della prescrizione. Quindi in questi due anni sa quanti reati avremmo potuto evitare che si prescrivano poi in futuro con la sospensione? Ecco, l'interrogazione, noi abbiamo chiesto di intervenire subito in tema di prescrizione, quindi domani. È una questione per la quale abbiamo tentato in maniera anche noi, in maniera proattiva, di fare una riforma, di proporre insomma la riforma. Ma tutto si è risolto con nulla di fatto perché è tutto fermo al Senato. Questo Parlamento e il suo partito, il PD, ha sempre impedito di evarare una vera legge di riforma sulla prescrizione per difendere tutti quelli che sono coinvolti nei vari processi per corruzione. Questo è il risultato. Oltre un miliardo di euro di tangenti per cui nessuno pagherà probabilmente. Un miliardo di euro dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse, che fanno fatica ad arrivare a fine mese, per i quali mancano lavoro, mancano gli stipendi, pensioni inadeguate e tutti i soldi bruciati in bustarelle. E oltre al danno la beffa. Vedremo coloro che sono stati accusati di questi reati, come quello di corruzione, li vedremo impuniti come se nulla fosse. Questo è il risultato della sua direzione politica del Ministero della Giustizia. Come si può parlare di giustizia se si sta a guardare tutti i corruttori uscire di galera? La verità purtroppo è che l'Italia precipita in un baratro, anche economico, perché tutto è per regno di corruzione e questo Parlamento non vuole dare nessuna risposta. La prescrizione ormai è ancora di salvezza dei delinquenti ed è anche una delle principali cause di intasamento dei tribunali. Quando un reato si estingue per prescrizione lo Stato fallisce due volte. La prima è perché non è riuscito a accertare la verità. La seconda è perché tutto l'impegno e il lavoro degli uffici è sperperato, compreso il denaro pubblico che viene sperperato. Non abbiamo avuto modo di relazionarci insieme per parlare di riforma della prescrizione. Le do l'ultimo dato, ma lo conosce. L'Italia è penultima in Europa per corruzione percepita. E quindi è necessario intervenire subito per una riforma domani della prescrizione. Grazie.